tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri top player tanti auguri a te questo è il numero 10 diamo uno dieci fede dieci anni da top player che deve dire sei diventato giuventino giusto sei felice questi decenni la torta è stata bella cosa c'è il ristorante e ti figlio abbiamo detto giusto da posto bene emozionato cambiato squadra fetti tanti auguri fetti top player guarda l'ho fatto qua buon compleanno e si vedeva cavolo dietro buon compleanno buon compleanno dieci anni da top player a dieci anni ragazzi dieci anni soltanto 10 anni 10 anni no meglio più bambino su piccolo 10 anni io 10 anni fa verso le 11 10 47 per l'esattezza mi trovo la spezia che tenuto top player in mano sono stato il primo a prendere bimbo che siamo mia moglie ha avuto fatto cesareo di chiedere in gomma il primo fu io vando a mamma di solito no i partenormali che fanno eh e ci portano le mamme no però la prima figura stato io ma vedo c'è gelosia anche per questo allora va bene quindi auguri a top player federico per quello che ho potuto ci abbiamo fatto una torta insomma 10 anni che sono papà insomma e mi ha adorato tanto perché i figli i figli so so pezze core i figli so pezze core pezze di cuore vero ragazzi è orgoglioso del mio top player poi suo sogno come tutti i bambini del mondo non tutto è quello di diventare calciatore capito la strada è quella lì però non sono un pari diciamo così sono un pari realista diciamo per l'età che c'ha potrebbe diventare ma d'altronde dico sempre tutti i bambini si vari chiene deciglio rugani capito anche se sanno se questi qua sono top player top player se questi qua hanno giocano in ZRA quindi tutti i bambini possono sognare ragazzi deciglio ah deciglio quindi abbiamo iniziato la torta c'è questi tovaglioli è un peccato fare così e li devo conservati sono bellissimi guardi c'è esistono anche i tovaglioli della juventus quindi quando parli della juventus sciacquate la bocca sciacquate la bocca quando parli della juventus e struite un musso quindi così pulisci il musso guarda così ripeto se i tovaglioli oggi ho mangiato la torta non l'ho buttato peccato perché devo conservare questo quindi detto questo parliamo un po di calcio oggi quindi vi dedicato tre minuti al mio figlio altri tre minuti devo dedicare a questi come si dice fantomatici sapientoni del calcio no questo calci mercato veramente tutti i sapientoni ragazzi tutti partire da youtube vabbè chi lo venne sfottuto la maggior parte del reparto in e fabio bergo mi chiede là che dice minchiate no da noi diciamo c'è un proprio ragazzi siamo toselli appena chi lo bocca nella notizia fa un video no ma questo serve perché poi ti spiega tutto no ma sai poi spiega ma questi milioni in più milioni in meno va se va bene non va bene cioè ragazzi praticamente tutti prendono non sa un cazzo nessuno ma soprattutto ho visto in giro ormai diciamo questi youtube giornalisti quello che ho criticato sempre no perché ripeto questo è il nostro regno i giornalisti chi viene a fare giornalisti su youtube per me sarà sempre un miserabile un pezzente perché tu sei giornalista fai giornalista siccome tu hai copiato la nostra etrea 10 anni fa capito io non lo posso sopportare però di tutti diciamo quello che è il mio più simpatico forse perché attacca l'inter sicuramente è il versicchio questo si un giorno lo inviterò a versicchio sicuramente perché è il buttamento all'inter e io sono contento lo so per l'interista non va bene l'ho capito questo ma d'altronde se fosse stato interista mi dava fastidio ancora a me però siccome giuventino è così a me mi dava fastidio maestrangelo che butta sempre merda a juve lì come ne va bene come ma detto questo detto questo è un poco biasino mi pare un poco scemo molto biasino chi lo può fare tifosi di parocchi ne ha rubro mezzo mezzo su che per l'interno è una roba magra la roba sembra juve milano l'interno tapposo chi non altro mi pare tifoso aziendalista voi insomma avete bene di fobia e biasino quindi pensa un po' e noi diciamo che oggi ho guardato molto il suo video e ha detto una cosa giusta nel senso nessuno sa niente ragazzi anche su questi giornalisti allora una volta a Monplano e chi lo azzecca una volta a Ronaldo e ne sbaglia 100 ora c'è chi su Fabrizio Romano c'è chi sul lato la pedolla ma ne dicono una giusta e 10 sbagliata addirittura no quello tutti gli dati youtube seguono fanno così sono i fans di Fabrizio Romano e poi ci sono tutti i fans di Petolla non puoi capire ragazzi sono due pianeti diversi no dici no ma quello è più che tibbe no ma è Petolla più che no ma è romano più che tibbe no ma è mobano non nessuno sa niente niente di niente capito solo l'unica cosa che ho saputo a me no se Giovesicchio diciamo è più uno che dice cose più giuste per fare chi dice che Petolla dice che è giunta che ci dà notizia e se lo dici così allora uno sa credere più Petolla cosa ha detto Giovesicchio però Romano ieri ha sganciato la bomba che la Juventus viene prima offerta di 45 mediero e tutti i pecore mi ci metto pure io perché alla fine l'ho sentito anche sulla gazzetta perché poi ha riportato a Fabrizio Romano queste notizie quindi tutti i video tutti i soci tutti i testati giornalisti io l'ho sentito onestamente sulla gazzetta prima offerta 45 milioni per Cupo Mex però la bomba l'ha buttata questo Fabrizio Romano poi tempo manco tempo per scaricare la bomba tempo di un minuto per Petolla intervengo no non c'è nessuna offerta dice no perché dice là se vuoi a Petolla ha detto se vuoi a Cupo Mex l'Atalanta non scende dai 50 in poi ha detto si può trattare dai 45 no dai 5 perché vuole 60 capito e quindi sono vedete com'è si fanno la guerra già di loro capito e poi youtube seguiranno quella quella linea seguiranno un'altra linea poi Fabrizio Romano visto che quello ci ha buttato un merda tutta una volta ha sganciato un'altra bomba parliamo di Gomez e giustamente poi sentivo dire una cosa ha detto giusto a Vessicchio che ha detto giustamente che a Fiorentina che noi prendiamo giocatori a Fiorentina sfigati ma ha fatto riflette sta cosa infatti ci ha risposto pure quindi c'ha ragione Vessicchio per quello che ha detto però se a Fiorentina ci ha dato sempre a noi gente sfiga cioè prendere gioco a Fiorentina è una sfiga tremenda mi sai che c'ha ragione a parte forse ne ha detto i tanti ma a parte io dico Roberto Baggio perché Baggio penso da noi è stato amato Baggio Baggio secondo me ha vinto anche alla Coppa UEFA scudetti quindi Baggio secondo me fu un grandissimo acquisto ma tutti gli altri acquisti da Fiorentina in effetti io oggi ci ho pensato oggi fu un del genere questa cosa e ci mi piace pensare perché praticamente Felipe Melo e chi due erano killer Melo da Fiorentina scandaloso poi c'è Bernardeschi proprio vergognoso come fanno i chiesti che vanno in America l'Arla costava 40 mila di euro su Bernardeschi fallimento poi in effetti chiesa volente sempre rotto si è venuto ha vincito anche Coppa Italia cose una coppa italiana però chiesa diciamo ha giocato poco quindi chiesa in effetti adesso non è che vale cioè l'abbiamo presa 60 mila di euro chiesa adesso vale manco vinte vale chiesa Vlaulic che per me in effetti siamo partiti tutti a dire top play top play grandissimo con la Fiorentina cosa e poi viene da Juventus ragazzi c'è picchiato 90 milioni adesso volarci onestamente un buonissimo anche 40 veri che ti dico perché non sta facendo il top play ricordi sbagliati cosa quindi questo mi avete aperto gli occhi in effetti però speriamo che con molta ci vedo oggi do diciamo ci do il beneficio del dubbio vediamo se con molta fare il top play però vedete c'è molta di sbagliare il ricordi quindi lì lì forse avete ragione voi vedi quando faremmo si autocertifica che ha sbagliato magari di subito top play quindi nella mia carriera però sbagliai su su Vlaulic forse forse però forse sempre forse e su Piontek Kiro Piontek proprio minchia proprio l'ha proprio sbagliato al 100% ma tutto lì l'azzecai l'ucazzo di balosi meno tutti tutti raspatori c'era scarsa tutti questi quindi quindi ripeto ragazzi e poi c'è quadrato nei windows si vabbò quadrato vi chiedono a Fiorentina vabbò vince scudetto che cosa quadrato forse mezzo mezzo si salva ma ora sul fatto che ha fatto che non s'atti vendino quadrato mai proprio se proprio il cuore l'ha distrutto di quadrato mai e ripeto sta cosa che ha detto che a Fiorentina ci ha dato il giocatore a noi alla fine mezze sei che ti pare c'aveva ragione attenzione questi mi ricordo ragazzi poi noi alla fine a Fiorentina chi ci ha detto insomma ora è giusto ricambiare quindi Ken, Artur è giusto è giusto ricambiare quindi chi la fa l'aspetti il karma è karma vabbè ragazzi guarda finisco proprio al decimo oggi mio figlio fa dieci anni e voglio finire a dieci minuti di video va bene tutti meritati quindi lo so abbiamo un attimo di pazienza giunti per me sto facendo un giusto calciomercato ancora il mercato finisce il 30 di agosto e quindi io vedo tanti youtube sono tutti ingazzati no ma siamo fermi a prima costo ma diamo di ci tempo costo io direi in effetti ancora aggiunto volendo tra maio e giugno i colpi l'hanno fatti i colpi lo sapete vediamo ora giustamente ancora manca tuo tipo cupo megas e chi su qua galeno chi su qua o a dei mila qui su qua ragazzi vi saluto state calmi forse io sempre ciao ciao